Il sindaco di Nocera Superiore, Giovanni Maria Cuofano, non evita critiche all'operato del Ministero dell'Istruzione che ad oggi si è affidato soltanto ad annunci in vista della riapertura di settembre delle scuole. Dal suo canto l'amministrazione comunale insieme ai dirigenti scolastici sono al lavoro per definire le misure per assicurare il distanziamento interpersonale tra gli alunni durante le lezioni scolastiche. Abbiamo organizzato in queste settimane insieme ai dirigenti scolastici un briefing per valutare la riapertura di settembre dell'anno scolastico. Ad oggi nonostante i proclami, gli annunci che dal livello nazionale giungono sui nostri territori, noi siamo seriamente impegnati per tentare di garantire il distanziamento interpersonale all'interno delle scuole. Non sappiamo ancora se tutta l'attività didattica sarà garantita all'interno dei plessi scolastici, anche perché è di settimane fa una nota che il Ministero degli Interni ha inviato a noi sindaci per chiederci di individuare spazi diversi da quelli scolastici. Io credo che sia una cosa insostenibile, credo che dobbiamo lavorare al meglio per consentire la ripresa delle attività didattiche all'interno delle scuole a settembre e questo è il lavoro che stiamo facendo con i dirigenti scolastici. Ovviamente l'invito ai nostri cittadini è a non abbassare la guardia, a rispettare il distanziamento interpersonale perché la situazione Covid non è ancora del tutto definita e quindi dobbiamo avere cauto ottimismo nel gestire il tempo che verrà. Per il momento l'amministrazione è impegnata a garantire il proprio lavoro per i propri cittadini, i più piccoli e i più grandi.